Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è militarizzazione e prepotenza. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è alta pressione e resistenza. Contro la demolizione dell'ambiente montano e la grave corruzione dello Stato, opera strategica o buco dell'assurdità, la tappa sabotata non si farà. Tra Torino e Lione, c'è già una linea e nessuna vera ragione per costruirne un'altra. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è molta speculazione per poca libertà. Con trenta miliardi di euro, proteggiamo la montagna e lasciamo l'ambianto in pace dove si trova. Opera strategica o buco dell'assurdità, la tappa va sabotata. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è la disinformazione della embedded stompa. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è la televisione per screditare la lotta. Ma dal suo elicottero, questa politica che governa, con il gas lacrimoceno, non ha più legittimità. Opera strategica o buco dell'assurdità, la tappa sabotata, non si farà. Non si farà. Tra Torino e Lione, in Val di Susa, c'è una giusta ribellione da vent'anni già. Contro l'autorità, nociva e imposta, la tappa è sabotata. Non si farà. Non si farà. Mai 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 Mai